Lo studio ha fatto spazio, il pubblico è andato via, invece abbiamo chiesto al Cardinal Guartiero Bassetti di essere questa mattina con noi. Buongiorno Eminenza e grazie di essere con noi in questo giorno così speciale. Eminenza, lei viene da una notte di celebrazioni e oggi l'aspetta il pranzo di Natale come al solito? Con i poveri. Con i suoi poveri? Sì, sì, mi stanno aspettando, quindi non posso dilungarmi molto. Ho visto... Perché è bellissimo il pranzo con i poveri, sa? È una vecchia tradizione questa. I poveri vengano tutti volentieri, però vogliono mangiare in fretta mezz'ora, tre quarti d'ora e poi devono andare via, perché i poveri sono i pellegrini dell'assoluto e quindi sono sempre in cammino, si fermano, sostano, mangiano e poi continuano il loro pellegrinaggio fino alla casa del padre, ho capito la psicologia dei poveri. E bisogna rispettare, bisogna adeguarsi a questa mentalità? Bisogna adeguarsi e dito servita alla svelta, perché sennò vanno via che non hanno nemmeno mangiato il giorno di Natale. È così. Senta Eminenza, noi abbiamo fatto il presepe molto spartano, lei lo ha voluto molto semplice il presepe quest'anno nella sua cattedrale, anzi lei lo ha chiesto povero. Io l'ho chiesto povero perché il presepe deve essere il segno della vita, della vita reale. Allora anche nella mia città ci sono tante persone che non hanno casa, allora non ho messo la capanna. Ci sono tante persone che vengono lì ai nostri empori della Caritas, abbiamo fatto in forma di un mercatino, uno ha l'impressione di essere in un supermercato, poi c'ha la tessera con i pesciolini, tutto quanto, prende quello che gli comoda, eccetera, perché c'è tanta gente che non arriva in fondo al mese e mangiano un po' di pasta scondita perché non hanno altro a cui attingere e allora non ho messo nemmeno le pecore, con il latte, eccetera. C'è soltanto Maria e Giuseppe però, c'è l'essenziale, c'è il calore della sacra famiglia perché il presepio è una famiglia, Dio è una famiglia, la Trinità è una famiglia, il presepe è una famiglia, allora c'è questa famiglia e poi gli animali della grotta, l'asino e il bue, rassomiglia tanto a quello che avete fatto voi. Come erano i suoi Natali, Eminenza, quando era piccolino lei? Il primo Natale fu, che io ricordo, la zia che stava a Firenze ci mandò un presepino di cartone dove si alzavano tutte le sagome, quindi era ritagliato, c'era la statua da... e noi eravamo in contemplazione, ci sembrava l'opera d'arte più grande del mondo, davvero un presepino dove era raffigurata un po' la nascita, quei personaggi principali. Poi in seminario, dopo lo curavamo bene, e poi ricordo un presepe particolare, fu l'anno dell'alluvione. Immaginavo che portasse lì, 1960. L'anno dell'alluvione, dicevamo, messa così in una cappella che avevamo un po' salvata dall'alluvione e fu veramente il Natale più povero. Noi abbiamo due foto, Eminenza, guardi, questa è la provvidenza, le avevamo messe da parte. Lei è un giovane prete, la porto a San Michele, a San Salvi, è vero? Questo quartiere di Firenze, ecco c'è questa foto incredibile. Con quattro metri d'acqua. Con quattro metri d'acqua. Nella prima lei disorientato, guarda la desolazione, in quest'altra invece molto perosa con i suoi ragazzi. Perché molti sanno che lei da giovane prete, giovane curato, come narrano le cronache del tempo, si accorge di qualcosa, che qualcosa non andava. Voi avete raccolto dei barili, dei contenitori che se esplosi avrebbero fatto un danno. Più che esplosi, se si fossero aperti avrebbero fatto un danno. Avrebbero fatto il danno che fecero in via Scipione Ammirato, dove saltò un palazzo di cinque piani e ci furono sette morti. Io ho intuito questo pericolo perché ho sentito il profumo del gas acetilene, ho detto lì c'è il carburo, il carburo scoppia con l'acqua. E da incosciente, come era 24 anni, insieme a un gruppettino di ragazzi che ho chiamato lì, perché l'acqua non era ancora arrivata alta, in quanto c'erano i muri del manicomio di sette metri che ci riparavano. Non ce ne eravamo accorti che l'arno era trascimato. Solo dopo, quando sono crollati questi muri, è successo proprio qualcosa di apocalittico. Ma noi avevamo già tolto questo carburo, però c'era già un mezzo metro d'acqua, quindi pericolosissimo. Ma io non me ne ricordavo più nemmeno di questo fatto, perché mi ricordo che il questore mi chiamò e mi disse lei crede di essere stato un eroe, lei è stato un incosciente perché ha messo a rischio la vita di dieci ragazzi. Sono rimasto così mortificato di un'azione che io ritenevo buona che l'ho dimenticata, l'ho proprio cassata dalla mia vita. Poi una ragazza, che allora era una ragazzina di 15 anni, adesso è una settanta come me e poco più, mi scrive e dice ma Don Gualtiero, ma ti ricordi dei cinquantanesi? Ma poi sono capite tante cose, Eminenza, perché poi l'hanno proposta per una medaglia d'oro, cioè vuol dire al valore civile in quel momento, nel senso che poi la storia si riscrive anche con, probabilmente dopo, non a caldo, quando la reazione immediata fu evidentemente quella del timore che qualcosa di più grave potesse essere. Però, Eminenza, la ringrazio di questo parco articolare perché le voglio chiedere una cosa. Allora c'era questo fango che aveva seppelito nelle città più belle del mondo, c'era una gioventù meravigliosa che era corsa per salvare tutto il possibile. Oggi c'è una desolazione intorno a noi, che è veramente difficile da far illuminare attraverso anche il Natale. Perché siamo cambiati così tanto? Perché quel Natale che lei ha vissuto nel 1966 era un Natale di speranza e quello di oggi probabilmente non è un Natale così luminoso, quanto si creda. Voglio aggiungere ancora un particolare. Quel Natale fu il Natale di Paolo VI, arrivò privatamente con una macchina, due poliziotti, un mesetto dopo e la notte di Natale è la messa. Ricordo il Papa che prima andò a Santa Croce, quella Santa Croce era stata quasi sommessa, e poi entrando in Duomo con quella umiltà che aveva lui, quasi perché di fronte anche al Duomo era stato alluvionato, si vedeva proprio un uomo desolato, ecco, di fronte a questa grande tragedia di questa bellezza fragile di Firenze. e quasi si scusava di essere ingombrante, di essere venuto con la sua presenza, quasi a disturbarci nel nostro dolore. Queste erano le grandezze di Paolo VI, che sapeva accogliere i drammi. Io credo sia stato uno dei papi più grandi della modernità, nel sapere immergersi proprio nei drammi dell'uomo di oggi. Ricordo questo Papa che sembrava ancora più piccolino. La speranza allora perché era più forte rispetto a quella di oggi? Nonostante quello scempio, nonostante quell'orrore? Ma la speranza c'è anche oggi. Forse si può chiamare anche con atteggiamenti diversi, con forme diverse. Io quando sono arrivato a San Pellegrino e vedendo quello scempio sopra Norcia, cinque chilometri sopra Norcia, ho visto tutte le case distrutte, un gruppettino di gente che era rimasta sotto una tenda con dieci sotto zero, perché la gente, ho capito una cosa nei terremoti, non vogliono perdere il ricordo. Il ritardo che c'è nel togliere le macerie dipende anche dalla gente che va lì, anche se ha la casetta prefabbricata e dice qui c'è morto il mio figlio, qui ci sono i ricordi della mia vita, sotto queste macerie c'è la mia vita. La gente va lì, purtuttavia la speranza è una virtù soprannaturale, quindi è molto più forte delle nostre speranze. È quella speranza consolidata di cui tante volte ci ha parlato Papa Benedetto. E quest'uomo di San Pellegrino, di fronte, io dissi ma com'era bello il vostro paese. Mi prese una mano e mi disse era, il nostro paese è bello, perché ritornerà così. Allora ecco la differenza, io ero quello che si angosciava per le macerie e lui vedeva già il suo paese con gli occhi della speranza. Dobbiamo abituare i giovani, se siamo degli educatori, a vedere le realtà con questi occhi. della speranza. 1976, perché quando siamo vecchi abbiamo bisogno di raccontare tante cose. Terremoto del Friuli, vado su a Bue, ero rettore del seminario minore, pianto tutto, lascio il vice lettore, vado su con la Caritas di Firenze da questa povera gente. A Osoppo, Don Ivan lo sa dov'è Osoppo. Abbiamo celebrato la messa la prima domenica dopo il terremoto, c'era stato mille morti. Era tutta distrutta quella zona lì da Gemona a Osoppo, Buia. E a un certo momento, alla fine della messa, c'era una vecchietta, che avrà avuto fra gli 85-90 anni, che con una zappetta, zappava fra le... Allora dice il vescovo, Monsignor Battisti, ma chi è quella vecchietta? E il prete dice, è la mia mamma. Allora si avvicina, il vescovo era... Dice, mamma, cosa state facendo? Dice, voglio vedere di rimettere insieme un po' di terra per piantare i fiori. Per piantare i fiori. Il vescovo, con le lacrime agli occhi, dice, finché c'è una persona ad 85 anni, che in mezzo alle macerie viene a cercare la terra per piantare i fiori, vuol dire che il Friuli, ecco, ecco la speranza consolidata. E ha bisogno del mondo, di questa speranza, ecco. La posso portare un po' lontano, per esempio, in Terra Santa. Questa Terra Santa che ha ripreso a lanciarsi le pietre, queste anime divise. Sto Gesù bambino, non è un po' stufo di nascere in questi scenari, in questi contesti. No, ha una voglia matta di rinascere, perché io sono andato, dopo poco che ero cardinale, quattro anni fa, sono andato in Terra Santa, perché sono stato invitato ad accendere l'albero di Natale. Quest'anno, per la prima volta, non è stato acceso l'albero di Natale, e questa è una cosa tristissima, per me tristissima. Quest'albero di Natale era fatto di tutti i fasci di luce, però c'era anche una zona di ombra, e mi spiegarono che quella zona di ombra erano i paesi in guerra fra di loro, le difficoltà che c'erano ancora fra di loro, con Israele, eccetera. Adesso quell'albero, purtroppo, è diventato una completa zona di ombra, tanto che non l'hanno nemmeno acceso, ma tornerà ad essere riacceso, perché Gerusalemme non è degli uomini di oggi, Gerusalemme è di Abramo, e Abramo ha tre figli ora, oggi, ha tre figli, ha i cristiani, ha gli ebrei e ha i musulmani, e la Pira diceva che finché non ci sarà pace su Gerusalemme, perché la Gerusalemme è la patria di tutti i figli di Abramo, non potrà esserci pace su tutta la terra. Dunque, tutti gli uomini di buona volontà, come dice la Bibbia, come dice il Salmo, devono pregare perché ci sia pace su Gerusalemme, allora ci sarà pace nel mondo, allora tornerà ad essere riacceso anche quell'albero della pace. Che augurio si fa per questo giorno, Eminenza? L'augurio che può fare un vescovo è quello che ho detto anche stanotte alla mia gente, lui è il verbo incarnato che è venuto nel mondo per illuminare con la sua luce tutti gli uomini, tutti. e allora io auguro che la luce del verbo incarnato, che non è ancora la luce della Pasqua, perché quella è una luce ancora molto più folgorante, quella del Natale è tenue, possa illuminare le coscienze, possa illuminare tutti gli uomini. Qualcuno dirà, ma il 26 è come il 25, non è cambiato nulla. Ma chi mi dice così, io gli dirò, ma tu sei cambiato, ma tu sei cambiato, ma io sono cambiato. Perché il Natale comincia di lì. Non può essere un appello generico, tu, 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 e l'umanità è fatta di tu. A chi invece vede troppa ombra quando ci sono troppi fratelli e sorelle che semmai vengono da lontano, vengono qui per minacciare, tra virgolette, il nostro ordine precostituito, vengono qui a toglierci il lavoro. A quei poveri che lei si porta dentro da quando è diventato prete, Eminenza. Cosa si può, più che dire forse fare come Chiesa. Insomma, siamo stessi, noi cristiani che siamo decisamente troppo rigidi nel guardare certe persone come delle minacce. Questo non ce lo possiamo nascondere. Però poi andiamo a messa, siamo andati a messa stanotte e ci andremo oggi pomeriggio se non abbiamo fatto a tempo. Siamo stessi noi che questo lo pensiamo. Allora, io non dico il posto, ma sono andato in una grande città che dovevo incontrare il Vescovo. C'è anche questo compito, no? È certo. Di Presidente della CEI di stare con i miei fratelli Vescovo. Il Vescovo tardava e poi è arrivato pieno di gioia. Dove sei stato? Sono stato sul porto con la mia gente ad accogliere un bargone di migranti perché noi siamo gente di mare e tutto quello che ci porta il mare è grazia di Dio. Erano andate a far festa, ad accogliere questa gente. Ecco, non è che noi possiamo togliere la tenebra che c'è nel mondo. Nessuno di noi ha questa capacità. Lo può fare soltanto il buon Dio nella misura che vuole. Lo può fare Gesù Cristo. Ma noi possiamo accendere su questo mondo tanta luce. Ecco, noi siamo chiamati a fare questo. E oggi che è il giorno di Natale dico ciascuno di voi ciascun credente diventi un faro di luce che illumina una delle tante zone di ombra che c'è nel mondo. E che dire a chi non accogli i fratelli ed è stata ammessa? Esamini la sua coscienza e veda se è a posto con Dio. Ma io preferisco gli occhi e la gioia di quel fratello vescovo che mi dice scusa se ti ho fatto aspettare. Ma sono tornato dal porto perché ero con tutta la mia gente a far festa perché era arrivato un barcone di fratelli. Tra poco avrà la prima delle due messe che lei celebrerà quest'oggi in cattedrale. Eminenza, i suoi poveri cosa dirà oggi a pranzo? Ma i poveri bisogna fare parlare loro capito? Bisogna Io quel giorno Non è una moda non rischia di diventare una moda questa di dire mi siedo a posto a tavola con come far capire alla gente che diventa qualcosa di essenziale quello di stare con loro? Alla gente gli danno noia questi franzi dei poveri Allora questo vuol dire che non è una moda e io è l'unico giorno in cui non mangio perché passo a fare una chiacchieratina Avanti e dietro Sì a fare tutta una chiacchieratina con quello e poi mi dice ma da retta dice io stasera devo anche cenare quindi ho bisogno di 10 euro perché i poveri parlano il loro linguaggio i poveri non sono dei filosofi i poveri e poi i poveri hanno sempre speranza anche il barbone che mi viene tutte le mattine alla macchina quando parti perché chi ha fatto dei beni di questo mondo del profitto del consumismo la ragione della sua vita è triste perché domani ha paura di perdere tutto ma il povero non ha nulla da perdere domani ha tutto da guadagnare perché perché se la provvidenza come lui spera l'aiuta avrà qualcosa di più di oggi questo me l'hanno insegnato i brasiliani che li andavo a trovare 40 anni fa quando tanti di loro erano poveri erano sempre sorridenti non avevano nulla in casa però dicevano e se Dio vuole domani sarà meglio di oggi e questa è la speranza auguri eminenza tanti auguri e buon Natale grazie di essere stato con noi noi ci rendiamo in pubblicità per qualche minuto poi torniamo nel nostro viaggio nei luoghi del Natale con Don Gaetano Corvasce state con noi grazie